Nikus, ieri ho fatto le 3 e mezza con Pucci e Rino e mi sono svegliato alle 14 e 15 per il meme Ormai io e Rino siamo il miglior team assistente e Rino si trova molto bene con me Sì, ho la minchia Eh, zè, 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 zè La minchia Merda È il Pucci Rex È il Manny Andiamo qua Ho fatto i 4k l'altro giorno, è migliorato allora, si è migliorato un botto Menni, ho fatto il cazzo di Robin Beck Eh, merda Beccate le lobby di gente con Bacchè, o mi rò spalla, due cose insieme non riesce a fare No, due persone da me, o Bacchè Mamma mia Ma la più venti avevo io, che cazzo è a noi Emozionati C***a, mi distrutti L'avrete stata brava, è andata in fade con po' Sì, la smera è scappata, come ho suonato io che ho 272 danni a due persone 151 e 122 all'altro Ma che culo di merda Sono qua, sono in track qua sulla, sulle scale Anche da me col fun Ho finito le mie munizioni Tu che personaggio li hai fatti? Ti manni Nooo No, bueno La riparazione in corso Mamma mia, dietro, dietro ero uno 137 Ho fatto uno Mi culo Mi culo I c***i giocano, aspettate questo let's go i primi l'ha fatto su Ori 5.112 danni gli altri su Octen 4.600 non pari questo man 5.600 danni questo me lo tengo se io mando gli screenshot manda pure Manny Vertex Manny si si ma infatti non capivo chi fosse perché pensavo io conosco un altro Manny è stata puntata da qualcuno guarda me due tizzi la roba arriva da qua che cazzo ha fatto che cazzo ha fatto questo ho distrutto ma cosa fa questo ma non mi aiuta mamma mia ce n'è solo uno non è rimasto mamma mia che fatti arriva un altro team eh ti arrivo addosso per due secondi uno mi spara a me 40 40 c'è un Phoenix solo vabbè 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 mi salgo me ne ha mandati su Discord Manny ancora quanto cazzo ce ne so non veramente mi sento eccoli mi sento sopra qua è un Mirage da me dietro due craccati è un full team yes yes no me l'ho distrutto il Mirage buone se l'ammazzo no mi è andato no l'anello si chiuderà tranquilla no nemico individuato ecco da me gomma no io mannaia la madonna merda compa ieri notte ieri vabbè quando ti avevo scritto tana compa ad un certo punto le lobby non so che cosa secondo me sono bad il matchmaking ho fatto 20 kill 18 kill 19 kill 3 game ho fatto tipo 100 kill poi l'ho staccato perché ero stanco secondo me che continuavo mamma mia ci sono dei momenti però ci sono anche dei momenti come ieri pomeriggio che invece guarda me crackato flash i'm very impressed è impressionato 5k si invece 4k in trio con il g7 must fa heads nel chillong ma il g7 è quell'arma che a me piaceva un bot utilizzare era veramente un pezzo di merda con il g7 un po' di coglione un bot poi boh ho smesso di utilizzarlo e non riesco più a usarlo non riesco proprio a spararsi vero 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 ci non hai aid come ho più che ce n'è uno sulla sinistra e due sulla destra non va no no ho fatto una ho fatto una no, no, non ci serve comba, qua si crack uno e l'altro distrutto no aspetta ti livello 30 blowdown comba con l'hack cheat passium smart si chiama comba 76 il problema è entrare in... ah no, vabbè, la search ce l'abbiamo di qua uno è morto di questo amico d'angelo entriamo insieme dall'altro lato a sto punto direi o vuoi pusharteli no, secondo me ce le ammazziamo nel cine si, si, si avanza dove siamo? in sotto di me questo qua flash 1 faccio bat bello go down ciao amore no, non bacio ti arriva tieni, tieni no no, la safe è storta comba, siamo morti nooo c'è il balloon comba, c'è il balloon c'è il balloon comba, col balloon ce la facciamo supera qua eh, non lo so da sopra, da sopra, mi sa da sopra si comba dobbiamo fare quei dobbiamo ammazzare quelli comba ho messo la zip ma non me l'ha messo ma abbiamo 50 secondi arrivo, arrivo vediamo se ce la facciamo ah lui ha il tp teoricamente nel caso poi non ce la facciamo si ce la facciamo mamma mia mamma mia mamma mia sta safe di merda oh un traguardo da cavo ma non male che mi sono troppo ma l'hanno fatto pure loro stanno facendo ballon pure loro arrivano non so che atterrano, atterrano qua, guarda sta per cadere è qua sopra la montagna eccolo com'è gg mate ha detto grazie per avermi cariato fortissimo super gg oh una volta che becchiamo un random decente nel chillong ads sono contento